Oh ragazzi, scusate ma calcolate che prima mi ha crashato la diretta, poi su TikTok non si sa perché ne so, sparite le dirette, non chiedete perché perché non lo so E niente, regà, ora tra un po' vado a Roma, dirò qualche video e poi appena arrivo se risentimo, ma do che boh, grazie regà Perché la torcia? E perché regà, ho la luce schifosa e quindi almeno mi serve un po' meglio, no? Mi faccio vedere meglio, no? Però poi mi saltano gli occhi chiari, non lo so, mi piace così, Reni sei bello, grazie regà Stai ancora con l'Iso, chiedetelo a lei, taggatele e chiedetelo che vedo di Eh dai, facciamo così regà, taggatele al volo che sia, ve la faccio entrare due minuti in diretta e poi tanto la chiudo che devo uscire Dai, ve faccio sto regalo oggi, però al volo è al volo eh Se volete eh, sennò io dico perché mi avete chiesto, se no shall Che fai di bello? E sto aspettando che... che arriva... che arriva una PM che poi danno da Roma E... giro un po' dei video e niente Bellissima sta con Capri Eh no, adesso sto ancora a Ostia, però tra un po' vado a Roma Quindi niente A noi regàmo pure la titola 200 tag, Lisa Però vabbè, c'è sta Parlerai con te tutta la sera So che non ti scorderai di me che vorrei Come appena uscito di gallera Vali molto più dei soldi di me, quindi resto qui con te Elisandro, sei in Trabli Sì, regà, pure la vedo davvero si trova 200 tag Calcolate, mi sta scrivendo adesso, mi stanno arrivando adesso i suoi messaggi Quindi vabbè Che ci racconti? No, è tutto bene, regà, ma tra un po' ve l'ho detto Vado a Roma, devo girare un po' dei video Non so che ora farò E niente, voi che mi dite? Quanto soffico con la torcia, regà? Bosatelli, amore mio Come stai? Guarda, pensi di Sofia Brixel Eh, c'è una grande storia dietro, regà Molto, è molto forte come ragazza perché ha superato la morte della sorella Perché tutti stanno taggando Elisa? Perché la vogliono al volo in diretto Però se entra, regà, giusto due minuti perché Perché poi ve l'ho detto, devo andare a Roma Perché non ti scorderai di me Parti come appena uscito di... Vabbè, regà, non so come si sente ma sono troppo stonato Comunque Ci fate caso Regà, per inviterci tu l'invito Eh, regà, non posso perché sennò mi casca il telefono Che so, tiene tutto umbilico Ti piacerebbe per io l'esperienza del collegio, sì che la voglia, regà Eppure oggi stesso la rifarei Mi dispiace per lei ma la voglio taggare Invita Elisa, regà, non ci sta adesso in diretto E io, ve l'ho detto, tra pochissimo la chiudo Quindi se vuole entrare al volo, bene, sennò Come si dice, cioè nel senso se entra e... Eh, ve la metto due minuti, sennò E no, io tra un po' la chiudo che devo andare Che devo andare a Roma Spero che se torno presto, stasera una diretta riesca a farla Regà, io... Quattro, cinque minuti e le... E chiudo la live Quindi... Niente Scrivi a Lisandius E chiedo a scrivere Le remonte tutta la sera So che non ti scorderai di me Che vorrei scoprarti come appena uscito di galle No, regà, prima dovrei fare più video con sta cavolo di torcia Salutami tua sorella che ti devo dire E lui, addirittura sta venendo a piangere per collettare un tuo messaggio Beh, regà, poi io non so nessuno, eh, mo... Dicembre è il mio copilano e vado a Roma Tu Elisa è stata ancora insieme Poi ve lo diciamo Babbo, regà, eh, mi dispiace per voi ma... Elisa non è entrata nella diretta Sennò due minuti lo faccio entrare E niente, dai, mo due minuti e chiudo Aspetta un secondo Ok, è l'ultima volta Appena finisci la canzone e chiudo la live Quindi con Elisa, quindi con Elisa appena possiamo ve lo diciamo Comunque ancora non lo fate, seguite, ma... Ammo, quanto sei bello Grazie, regà Bella, Tommy, come stai? Puoi entrare al volo? Gabbi, inviagli un messaggio Ma no, regà, ma mi pare che... Mo gli mando un messaggio per la live Poi, se ve lo diciamo Se torno presto, sarà due minuti La faccio entrare Due minuti perché non possiamo fare di più Non peraltro, non pensate male Perché avevi le storie con una, le hai tolte No, le ho tolte Mamma mia, gli occhi bellissimi Grazie mille Regà, ma come vi consigliate di fare i capelli? Datemi un po' qualche consiglio A me piacciono così Al massimo poco poco più lunghi davanti e bah E qua e là di tutti i corti a pelle O a zero Poi che non è qualsiasi I capelli così sono belli Ma non male Però qua me li taglio tutti ai lati Qua tutti i capelli Tipo, è troppo bello Ciao Samuel Ciao Samu Ciao Tommy I capelli come lì al collegio Eh, me l'hanno detto un po' altre persone Bro, boh, muovedo Ma non sei stonato A me non muovi Vado a vedere la puntata del collegio Dai, buona visione Vabbò, regà Grazie alla compagnia Io adesso vado e devo andare a Roma Mi sta una piena E niente Ci sentiamo stasera Se non finisco troppo tardi Sennò domani Nuovi video in arrivo Nuovi contenuti Grazie a tutti